buongiorno signora anche lei qua e cos'ha? dottore ho sempre mal di testa bucciorta poverina ha mal di testa e il suo marito che dice? è in coda anche lui dottore credo di avere un intiammazione al polso destro per forza è il minimo che le può venire beh ricordate entrambi al reparto 32 forza reparto 32 ma non direi ma non ho reparto 1 non discutere gli ordini del primario muovete andiamo a baileare e lei chi è? io sono il marito e vado a fare una camarada a mezzo al comune va scusi dottore ma non ci ricoverai in ospedale ospedale? c'è una carica! aus aus ciao 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 ciao